La partita dei ragazzi è stata sbagliata forse l'approccio iniziale, anche la prima partita del campionato quindi magari un po' macchinosi, ancora non pronti e non entrati bene nei meccanismi perché comunque ci sono alcuni giocatori che sono nuovi e quindi magari ancora non riusciva a giustare bene ogni azione però diciamo che è stata più che sufficiente la prestazione ma noi puntiamo sempre al massimo, questo mi sembra abbastanza scottato soprattutto per una società come il Tor di Quinto comunque loro sono una buonissima squadra, molto bravi, giocano bene però non siamo da meno certamente